video che tutti quellanti ben ritrovati sul canale oggi ragazzi come ogni settimana siamo qui con una nuova puntata del market watch a questo giro ovviamente in primis per parlare delle novità della settimana poi ovviamente andremo a guardare anche tutto quello che è successo al mercato soprattutto parlando in primis di batter of legend e anche ovviamente a quello che succederà poi con l'annuncio dei team perché ragazzi oramai siamo arrivati a giugno manca meno di un mesetto e sapremo probabilmente quello che ci sarà all'interno di quelli che saranno i team di quest'anno ovviamente però ragazzi prima di iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da fantasia store il miglior negozio ragazzi dove preordinare i team di quest'anno perché diciamo che ci sono tante cose su cose ma lo andremo a vedere dopo quindi ovviamente se volete supportarmi e avere un piccolo sconto trovate il mio referral link e il codice sconto sempre qua sotto stessa cosa ragazzi per jamstor non ha prodotti competitivi ma roba abbastanza esotica sia di yuki che di one piece coreana giapponese poi sleeve particolari ha messo in preorder anche i nuovi fanco quindi se volete qualcosina di figo trovate referral link e il codice sconto sempre qua sotto in più se volete liberarvi carte di yuki magic pokemon e one piece trovate il link del instagram sempre qua sotto contattatemi mandatemi le foto e se c'è roba interessante se ne può parlare detto questo erens andiamoci a vedere un po un po tutto un po quello che è successo dai su andiamo partiamo un attimo con alcune novità che secondo me possono essere interessanti anche se non sono ovviamente collegata al gioco di carte classico e sono ovviamente questo che non so cos'è ma torvoliamo non importa abbiamo la nuova action figure di kagari che potrebbe essere interessante dipende quanto è grande è in scala 1 a 1 non lo so non credo che sia in scala 1 a 1 però sembra bella carina l'unica cosa che così bianca non mi ispira troppo spero riescano a fare qualcosa a colori però sono abbastanza abbastanza interessato ovviamente costare una cosa come 400 euro e noi abbandoneremo l'idea di comprarle ma ovviamente la roba che mi interessava più di tutti ragazzi è questa con il nuovo fanco della leder pia ragazzi avremo anche la maglia l'avevano fatto all'epoca col drago bianco chi bluetun se non ricordo male e anche col drago nero quindi a parte che spererei una versione col mago nero e una riprinte della versione introvabile di quel fanco però anche la leder pia non è assolutamente male erenz ha già detto che gli fa schifo però io sono di tutt'altra opinione anzi me lo porterei tranquillamente a casa poi non so te è la maglietta del drago bianco era più figa mi dispiace vabbè quello era il drago bianco questa leder pia però nel senso io ci metterei la firma avere un merchandising infinito di cose del genere mettiamola così ci deve pensare fanco e non conami cioè dovrebbe pensarci conami non fanco però dettagli è colab si si oltre a questo poi abbiamo anche l'annuncio di alcune carte jam promotional che ok questo sempre della famiglia di thunder ma vabbè poco interessante ma andiamo a quello che effettivamente potrebbe interessare a tutti ovvero questo ragazzi per chiunque non sapesse di cosa sto parlando queste sono le alternative art delle charmer e no è inutile che dite un mio dio dove si recuperano noi non potremo prenderle e per quale semplice motivo diciamo che erano diciamo che questo è materiale promozionale per una campagna fatta in giappone tramite neuron dove con dei punti che ottenevi facendo alcune missioni all'interno della piattaforma ottenevi dei ticket che potevi spenderli in pacchetti dove si trovavano queste carte non non piangete ragazzi esiste sia la versione super che secret quel stai la super quella prima era la secret e niente niente non siamo abbandonati a noi stessi ragazzi l'ho già detto sono spiegati noi e vabbè conami nel momento in cui vorrei fare queste campagne e promuoverle in italia io sono disponibile per tutto è gratis nel caso ne parliamo con compensi vari però nel senso io sono pronto a darvi una mano bene detto questo adesso passerei un attimo a battle of legend per vedere quali sono le carte più costose e cosa è successo proprio a queste carte perché qualcosina è un po salita troppo forse mettiamola così ma vabbè allora partiamo da dragon master magia ragazzi forse nel vecchio market watch mi sono spiegato male io avevo detto che ero contento che ci fossero carte con della value che erano difficili da trovare e che effettivamente non avevano una controparte economica perché rendeva prendeva queste carte più appetitose e il problema è che andava bene il discorso per rai e rose perché sono tipo alternative art introvabili va benissimo questa essendo solo quarter e non essendo una versione giocabile neanche con un altro artwork la situazione è andata totalmente fuori controllo io ho un box da aprire spero tanto di poterla pullare ma non ci credo neanche se lo vedo cioè ho pullato roba incredibile però questa la vedo un po difficile soprattutto perché ho visto un po di opening online e non mi sembra che esca così facilmente la butto lì adesso non so quanti che bisogna aprire per trovarla ma uno non credo basti non lo so vedendo un po il prezzo a quanto si vende sp quarter non era a questi a queste cifre e non capisco effettivamente perché cioè stiamo parlando di sp comunque una carta insensata questa è partita stecca abbo 5 700 probabilmente in inglese costa anche meno però ragazzi ci sono venduti che arrivano a 400 360 che non è poco per una carta blue eyes poi io metto le mani avanti non so se si tirerà da qualsiasi altra parte però mi sembra un po to match per una carta blue eyes mettiamola così e vi dico fatemelo sapere qua sotto nei commenti se per caso con robe incredibili come re delle paludi la tira un altro mazzo senza senso mettiamola così poi passiamo alla prossima abbiamo rose ovviamente alternative art non sono un grande fan lo ammetto però anche questa sta sui 100 euro che comunque ci sta nel senso è un alternative art è una roba esclusiva che puoi trovare solo in questa rarità ed è una cosa che apprezzo perché mi dà l'impressione di essere tipo pokemon vai buttiamocela così a caso sì diciamo che però ci sono delle versioni di ok va bene per rose e raya il discorso città per la carta di prima non ci sono altre versioni nel senso in pokemon almeno la versione imax normale esiste no no allora su quello non di ghiratina abbiamo il nostro ghiratina in pratica adesso più o meno allora io sono d'accordo nel senso l'idea è buona forse la realizzazione non del tutto perché capisco la gente che si lamenta cioè ho già litigato con una persona in chat ma è più che altro perché mi ero spiegato male cioè buona idea cattiva realizzazione tutto stessa cosa ovviamente oltre rose raya è uguale raya già mi piace di più non è male la preferisco all'artwork originale e anche questa napi 8 e 20 eh così tanto per è più carina vale di più sì sì impossibile poi trovare un play set io mi chiedo vabbè è difficile cioè quanti ne avrà aperti cards mania per averne due o magari gli sono uscite solo quelle due box e due tipo magari come extra quarter è uscita due volte quella al posto di una e una sì ma vabbè che poi noi adesso prendiamo in considerazione solo queste e un'altra dopo ma nel pratico ce ne sono tantissime di quarter mi fa strano che yubel non abbiano fatto quarter lui yubel c'è quarter sta 200 è solo che car market è bagato e non si vedono bene le quarter di sto set ok come non detto bene andiamo adesso alla penultima carta di battle of legend ovvero lara io a il nostro amico mattecca avevo detto no tranquillo non ti preoccupare la roba di battle of legend crolla sempre forse nei battle of legend brutti questo non è uno di quelli infatti questo è uno con le short print cosa che non hanno praticamente quasi mai fatto quella è la quarter no 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 ovvio non mi aspettavo che quella normale valesse così se no era un problema la quarter però guardate che bel grafico che ha fatto stava mamma mia a volte ci pensi dici cazzo potevo prenderla veramente a 10 euro e adesso parte da 18 primo play set inglese sta 22 in italiano 23 primo play set 25 a volte ci pensi nel senso non credo non credo di montare ritual beast né per elder che tipo sta a 10 euro né per lei cioè perché dovrei spendere 100 euro per ritual beast cioè no non credo di bellissimi artwork eh lei è una topa assurda però non mi va preferisco buttare dei soldi su barrile di ghiaccio eh che anche quello sia ipato tra la roba vecchia dello structure che non ha senso cioè ragazzi la tipa con capelli rossi sta a 5 euro l'altra piccolina sta a 2 euro gli structure deck stanno a 30 euro in italiano ma state fuori vabbè ok però preferisco buttarli cioè 90 euro per un play set di structure deck barrile di ghiaccio quando un mese fa si vendeva a 6 euro e non si vendeva vabbè a prezzo l'impegno dei negozi a overprezzare queste cose però se a 6 euro prima non lo vendevi non lo vendi a 30 adesso lo vendi a 12 14 mettiamola così o lo sbusti che secondo me potrebbe essere una buona opzione visto che probabilmente l'avranno conveniente ma l'avranno comprato da fornitore a 2 euro proprio perché dici vai tieni tanto e adesso andiamoci a vedere l'ultima carta che è effettivamente la carta più costosa del set ovvero phantom of evil che attualmente ragazzi si aggira sui 65 euro la carta più bella del mondo che mi ha fatto ai pari trono a 40 euro bene vediamo anche la versione quarter tanto per non ha ancora 200 milioni sì ma non ha dei venduti non ha senso è come Lara cioè facciamo comprimere un attimo i prezzi questa è una carta da 150 140 non da 200 mettiamola così cioè facciamole uscire dai box ste robe e ho detto tutto bene visto questo è la situazione terrificante di battle of legend con dei prezzi assurdi che comunque danno valio al prodotto e ti fanno effettivamente venire voglia di sbustare adesso andrei a parlare dei set che verranno reprintati all'interno dei team ragazzi perché ci sono tantissime carte che possono stare al suo interno e vorrei vedere insieme a voi cosa è calato e cosa ancora è stabile per capire effettivamente cosa conviene iniziare a recuperare o cosa conviene effettivamente aspettare perché nel senso i team faranno droppare i prezzi di tutto però se c'è qualcosa da espansione che comunque inizia avere un prezzo onesto si può iniziare già a prendere i pacchetti che avremo a disposizione all'interno dei team sono pote fini ch dune agov maize amde e wisum che nel pratico sono tutti and more c'è scritto e altro quindi metteranno qualcosa a caso drago tridente ci mettono rg no rgbt shura a caso silver wind la testa che mi esplode ma sai che avrebbe senso più che altro perché e konami aveva fatto uscire i supporti alla nera l'anno scorso e quindi che ne sai che non non provino a tirare su qualcosa dicono manca silver silver wind mettiamocelo dentro anche vaio buttato a caso no no vaio c'è già secret quindi non ha senso riprintarlo di nuovo sta un euro ma lo volevo lo volevo io li compri da brawl vabbè e quindi adesso andiamoci a vedere effettivamente quali sono le carte che attualmente costano troppo di questi set che potremmo recuperare a meno partiamo da contatto preferito ragazzi io questa l'ho scoperta totalmente a caso caricando le carte sul market e mentre caricavo visto cazzo ma questa carta sta a 10 euro com'è possibile e effettivamente questa carta nei team dell'anno scorso non c'era perché pote non era stato riprintato a parte garura col passare il tempo e la carta si è ipata in italiano ce n'è una 12 e poi va 14 io tutto contento perché sta roba non l'avevo caricata perché stava due centesimi e poi me le sono vendute a 12 e sono stato molto sì sì sono stato molto contento ma ne ho vendute anche un paio ultimamente cioè la gente continua a comprarle soprattutto perché sono innamorati di hero non capisco questo amore incondizionato capisco che stanno tutti a casa a guardarsi le live di yuki hero e farsi le seguine a vicenda però nel senso signor yuki hero non è un dissing vorrei solo capire come mai c'è tutto questo amore nei confronti di tiro mi mi deve spiegare perché contatto favorito sta a 13 euro è un problema poi un'altra carta uomo alato neosolucente eroe elementare questa 15 euro c'è cosa 15 20 io devo controllare nel bike se ce l'ho io sono sicuro di queste robe è un pro il problema è che non è che dicevo hanno fatto buy out non si trovano no 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 sta così punto ci sono i venduti che arrivano a 15 20 mi sembra un po tanto ma ci sono venduti a 15 e quindi tocco iniziare a scavare è quello il problema mi farò diventerò minatore adesso minatore in mezzo di magazzino tirerò fuori le robe inizierò a caricare tutta la roba io che trovo ce n'è ancora un'altra da vedere c'è un altro hero che non ha senso però nel senso bisogna arrivare un attimo a mese allora andiamo avanti abbiamo prossima espansione ovvero fotone per nova ragazzi fotone per nova è l'espansione di cash tira ma senza ferrir peccato ragazzi non rivedete una ristampa di ferrir a breve mi spiace poi io la vedo bene che conami li levi proprio ma vabbè dettagli comunque credo che sia una delle poche carte cash tira che attualmente costa ancora qualcosa abbiamo cash teosis che sta sui 20 euro l'una e ancora si vendicchia quella cifra gli ultimi venduti sono no 27 la gente è fuori il 18 a 27 euro gli servirà per l'europeo per forza se no lo vedo abbastanza insensato io mi immagino queste carte come un continuo enorme drop invece sembra che costi non ancora qualcosa e vabbè e i prezzi sono più o meno quelli cash teosis vale ancora dei soldi poi abbiamo raisart che anche questo nel senso ha il suo perché forse sai cos'è si sono ai pate dopo la ristampa della terreno all'interno della raditi perché comunque essendo due carte che non avevano ristampa la gente prova a lucrare su questa cosa su tutto quello che ha due mesi esce nel senso sì sì no secondo me c'ha senso fino a un certo punto nel senso arrivato al nazionale quanto ci vuole lucrare sopra su questa roba veramente poco esatto cioè fate l'europeo che ci sta a comprarle se no ragazza ma estate divertitevi giocate dei mazzi for fun alla fine esiste anche per quello l'estate è sempre fatto cioè in estate un po' meno ti fai il nazionale ti fai il tuo bel 3 6 drop nel caso 5 5 torni fai la summer cup fai 1 4 e poi te la sciaglie così lasci perdere il gioco e vai a scopare ma allora io credo che la summer cup non esista più così te la butto lì è una cosa molto triste lo so mi dispiace e più che altro cioè ragazzi pensate alle nuove espansioni esce forbidden memories a breve uscirà anche l'espansione con i pesci cioè infinite forbidden è un gioco della play 1 sì infine forbidden e l'espansione con i pesci che non è male inizierei a studiare quello e preordinare quelle espansioni su fantasia store link in descrizione marchetta meraviglio necessario e va bene controlliamo andiamo avanti vediamo cos'altro c'è abbiamo terla in scashtira cioè ci rendiamo conto che ancora il mazzo costa tipo 150 euro capisco che avete ibridato questa roba con snake eyes però anche un pochino meno eh sì esatto però allora guarda qua stiamo già in drop perché le persone hanno capito non si vende abbassiamo leggermente prima o poi qualcuno comprerà e vabbè poi andando avanti come altra carta sempre di fotone per nova abbiamo grande benvenuto labirinto ragazzi la labirint era pieno nazionale quindi ancora è buono esiste rollback che gli ha dato una mano quindi effettivamente questa è l'unica carta che non ha ancora una reprinta quindi tocca tocca sganciare i soldi esiste da op23 però nel senso questa fotone per nova 12 50 queste ultime 15 ma ragazzi ma che cazzo la comprata fa da fotone per nova quando c'è a 15 euro ultimate cioè capisco che non c'è un playset però prendete questa prendete queste due queste due perle state al posto e sicuramente avete svaluta meno rispetto alla ultra scusa si decisamente andiamo avanti scusa poi abbiamo sargas sargas vabbè un xyz buono che si fa sopra l'xyz spriggans che non me lo ricordo come si chiama è ok vabbè si fa sopra di lui carino search a regus se non mi ricordo male no aggiungi uno spriggans onterion quindi vabbè ci sta un onesto attualmente non l'ho visto giocato a nessuna parte però ci sta recuperarlo post in poi abbiamo anche a vero borgoglio d'oro questi che non stanno più a un cazzo esiste anche in due versioni differenti anche la versione da sneak peek preview che è ultra ok quindi già c'ha già due print poi abbiamo trasta trasta attualmente si aggira sui 44 euro secret poi avevo messo sì anche la versione è più facile c'è trovare un play set in versione secret che in versione ultra questa carta io me la butto lì non sta all'interno dei team questa faranno lo stesso trick di chimera che l'hanno messa qua dentro dentro questi set maze l'anno prima e quindi inizio ad avere dei dubbi mese of millennial sì ok usciva da foto né pernova questa ok quindi dovrebbe stare all'interno dei team ma avendo questa ristampa come hanno fatto chimera col set che verrà ristampato quest'anno quindi ci potrebbe essere chimera anche qua e non verrà non verrà rimessa all'interno dei team no potrebbe essere messa nei team chimera sì questa no questa perché fanno lo stesso trick di chimera potrebbe essere vedremo non lo so io questa me la vedo così ragazzi quindi se dovete recuperarla e volete fare una scommessa io punterei a prenderla perché tanto il prezzo è in discesa voi seguite bene un attimo il market e se trovate una buona offerta le tirerei su perché comunque per quanto la ristampino questa sarà una carta almeno da 20 euro quindi non ci perdete così tanto però se non la ristampano sicuramente il prezzo potrebbe leggermente salire non so di quanto potrebbe anche rimanere stabile però difficile soprattutto quando una carta non la ristampa e te l'aspetti poi passiamo a ch ragazzi questo set è penso stato il set più over ipato da una singola persona sul pianeta il set più over ipato di tutti per colpa di una singola persona sul pianeta josh smith quem ha raggiunto prezzi insensati venduto a 43 ragazzi 43 euro e lo 0606 2024 beh che cioè non facevate neanche in tempo a partecipare al nazionale questa carta perché non arrivava in tempo quindi boh ovviamente sta calando non compratela ragazzi perché non li vale adesso i soldi aspettate i team poi conami ce la butta nel culo e non c'è e farebbe molto ridere però aspettate non ha senso spendere 30 euro per questa carta prendete trasta a questo punto esatto che è più improbabile che non venga ristampato è quello il fatto più probabile che so che vi piace farvi le seguine su quem perché è la why fuori tutti però ragazzi calma volevo dire un'altra cosa ma era bannabile credo tenete a bad al cazzo e spendete in trasto sì sì e vabbè infatti c'ha i capelli bianchi perché è piena di sborre allora poi passiamo a dispater dispater è ragazzi anche questa c'è sincro generico buono anche questo attualmente sta sui 24 20 euro il prezzo sta sta calando cioè secondo me è inutile prende questa ragazzi a parte traste tutta roba abbastanza inutile da recuperare perché vi rendete conto anche voi a parte qualche carta che rimane in pianta stabile ma secondo me non ha senso stanno tutte calando è questo poi altra carta di cia abbiamo l'ulua lilith questa rimane in pianta stabile sui 9 euro cioè esempio questa se voi la volete ad espansione e la volete subito 9 euro ci sta a buttarceli tra due mesi l'ha comprata a 3 euro però vabbè dici c'ho la versione secret ce l'ho subito per 9 euro me la collo quem 30 no perché quem la recuperata è con 5 euro vi ricordate reguls a quanto stava l'anno scorso io l'ho venduti a 50 l'uno se li compro adesso secret di espansione stanno a 5 euro quindi esatto cioè o vi servono per qualche motivo o subito o altrimenti cannate mettiamola così poi abbiamo oh ragazzi questo non prendetelo perché sento tanta gente che dice oh adesso arriva la ban e gli staccamo la testa credo lo toccheranno post teen perché non avrebbe senso farlo prima quindi nel caso se ci sarà una ban da adesso non verrà toccato lui ma verrà toccato a settembre barra ottobre però boh mi sembrano soldi buttati qua capisco che vi piaccia fare la puppet lock però adesso calmi ragazzi no ma più che altro escono i nuovi supporti puppet vi fate l'ftk da soli con puppet non usate branded perché rischia veramente di di essere levato dai coglioni questo esatto noi lo vogliamo per sempre poi passiamo adesso a dune non non il film ma il set dune cosa ha di interessante dipende il drago kremisi il drago più bello mai creato la carta più figa di yugioh il synchro più perfetto l'emblema di 5ds no no era carino perché tirava l'arcidemone con la combo centurion e ok che cazzo stai dicendo non parlo la tua lingua 2011 carta mancante c'è ftk le persone però dettagli il 2011 carta mancante ok sta crollando anche questo poi anche c'è esiste anche la versione da dove esiste no non da da speed duel passiamo avanti questo esiste la speed duel no scusate ho detto una cazzata esiste la versione da sneak peek scusate che costa di più della secret perché ce ne sono di meno voglio raccontare una piccola storia su questa carta allora vedete a quanto sta io l'ho sbustata stava a 3 euro per errore l'ho bagnata pure in cazzato nero l'ho venduta pure a 1 euro e 50 me l'hanno comprata ha toccato i 40 però ma non stava sempre a 30 sì 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 no 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 era partita come niente e poi sai supporti cioè all'inizio un c'è buono meno buono jubel buono meno buono ristampa buono e quindi prezzi salgono scendono cambiano è una lotta continua nel metaverso ok attualmente sta leggermente carato prossima abbiamo oh non compratelo no chi ve lo vende a 4 euro vi sta truffando stava a 90 centesimi capisco che hanno ristampato tutto quello che esiste di purelli e lui no non non ce li butto 4 euro a parte da me per di più no a parte che è un po' sceso ragazzi stava a 9 euro questa roba no mi rifiuto anche le super l'hanno fatta salire disastro disastro veramente conami quando mi fai la rarity ma fammela fatta per bene mettici tutto no metà delle robe almeno con sprite in battle of legend hai fatto la scelta giusta ci hai buttato veramente tutto altra carta decente revolution synchro carta da 30 euro carta da 14 adesso 12 era altri tempi ci si credeva in synchro poi è successo anche lì un beee no una settimana e poi hanno capito che le ht lo sfondano ma ovviamente se va in combo fortissimo ma se va in combo passiamo a runic va ragazzi basta runic 10 euro non sta neanche calando ha comprato a un euro mese prossimo e runic va cioè volete veramente giocare un mazzo che non fa no non è che non fa niente ma che non fa divertire le persone è come giocare mina cioè capisco che mina è forte però mina non è divertente mina è un latiro e ok c'è la madre puttana passiamo ad agov si passiamo ad agov la serie più bella del mondo oh ma erenz sp piccolo cavaliere che succede quanto godo di averla venduta a 100 quando stava a 90 botta di culo eh stavo sul market era rimasta lì uno ha detto oh prendo questo questo sp contentissimo mi ha illuminato la giornata quel giorno ricordo a francesco che me ne deve ancora una ma non voglio sp voglio i miei 125 euro di quando io l'ho prestata poi passiamo a wanted ti ricordi quando stava a 100? si io le ho vendute un 3 per a 25 l'una si non compratele ragazzi consiglio eh poi abbiamo la strega anche ti ricordi quando stava minchia? si si ragazzi sta roba sta droppando in una maniera incredibile anche falò che ovviamente non vedremo eh è sceso a 34 vi ricordate anche quello quando stava a 100 e la gente vi voleva truffare e far pagare tipo un mazzo 1200 euro un po' tomace eh e poi la bolla esplosa cosa che vi avevo già detto tipo 70 volte poi vabbè adesso siamo arrivati al punto in cui l'evento non c'è e quindi ovviamente la roba meta droppa prossima carta imseti venduti a 150 al set anche questi eh sono scesi ragazzi non c'è carte buone ma non hanno mai avuto gioco come meritavano all'interno del meta è quello il problema l'ho visti con con i centurion l'ho visti con tier però c'è un vero mazzo meta che ne abusasse non c'è stato peccato bella meccanica figa la terre la il sarcofago che li tira a caso troppo potente e lei che si lascia il sarcofago vabbè sta crollando ragazzi è inutile aspettate anche per questi next il sarcofago sale sarcofago io l'avevo detto che saliva qualcosa primo play set ma che senso ha cioè ragazzi lo ristampano è tutta roba molto probabilmente non si sa però tutta roba che dovrebbe essere ristampata alla fine per 4 euro ci sta se li volete recuperare però boh probabilmente nei team la faranno secret quindi sarà ancora più bella tocca iniziare a preordinare le casse eh fantasia store allora passiamo adesso all'antizeus typhoon ricordo pre ics stava poco poi è salito e adesso è sceso di nuovo aveva toccato tipo i 40 roba del genere sì sì attualmente sta sui 25 26 euro però cioè questi allora chi sta facendo droppare le carte è una persona intelligente perché tanto non le vendono al prezzo a cui vogliono cioè non c'ha senso paga 30 una carta che non gioco non è inutile che compro e la fanno secret molto probabilmente ovviamente credo droppi meno di altre roba perché comunque è una carta molto buona come sp però non mi aspetto che rimanga a 25 euro mettiamola così andiamo cosa no no neanche io sono ah ok poi andiamo alla labyrinth più bella del no è un uomo o una donna arias la maggior doma donna la maggior doma più bella del mondo e anche se era un maggior domo poteva essere il maggior domo più bello del mondo non si scrive nessuno 15 euro al set boh ci sta alla fine abbastanza standard questa non sale e scende è inutile che poi fare le saliste robe e vabbè oh adesso passiamo alla carta hero di cui ti parlavo questa stava tipo a 4 euro secondo te di cosa sto parlando liquid soldier bam risvegli il tuo orale mentale che cazzo stai dicendo e sta a 20 21 di vabbè quando l'ho vista io l'ultima volta stava a 30 ci ho venduti fino a 30 euro infatti e vabbè monostampa un set del cazzo succedono queste cose e poi io a chi non piace piace a tutti che bella soddisfazione bene ma lì dietro manca un errore mentale molto importante eh lo so ma non si può c'è un ti ricordo una causa in mezzo poi andiamo a un finto un finto standard tra tre anni è finita ok finto standard i copyright durano vent'anni vent'anni vabbè abbiamo lui ah c'è sincro sì è un po' sceso eh no vabbè era sceso stava a 30 era sceso adesso è rimasto tipo sui 15 euro io bei bei ricordi di quando lo vendevo a 45 per qualcuno eh oh eh ti dico erano altri tempi poi oh siamo arrivati a ormai avevo ancora i capelli non non avevi i capelli all'epoca ma in soft memory si stica aveva i capelli no no mi dispiace vabbè vai avanti vaffanculo comunque eh tanto ragazzi siamo ormai arrivati a fine anno eh manca pochissimo l'anno di yugi parlo e quindi è inutile continuare a far pagare sta roba perché tanto si partirà con il nuovo meta con nuove carte e nuovi soldi a spendere poi ultime carte abbiamo l'epicentro xeno cartadino che sta salendo a caso ma vabbè stava sui 30 eh adesso trovate il playset sui 16 che ci sta poi abbiamo metti in paglia tua anima che è boh io mi chiedo chi gioca ancora con Anquish Soul nel 2024 cioè penso post nazionale scorso quando il tipo è arrivato secondo basta da lì in poi è finita l'epoca del mazzo so di qualcuno a sto nazionale ma vabbè abbastanza inutile considerate che il link che stava 20 euro al nazionale scorso attualmente ultimate da OTS sta a 5 euro e 50 non esiste una cosa del genere bene visto questo adesso passerai alle ultime quattro carte che poi sono due ovvero quelle che sono all'interno dei team ma che non fanno parte di questi set ovvero uno due e tre e il drago tridente allora attualmente nessuna versione sta droppando perché comunque sono carte di espansione da o lc5d o rgbt sì sì rgbt cioè anche se c'è la ristampa questo è ultimate è un altro discorso sicuramente un po' calerà perché tanto ci sarà una versione economica da poter giocare in tempai dico però non tornerà mai a 40 euro però sì no forse no 40 nm dubito però secondo me delle versioni good a 40 le troverete secondo me sì anche quella dalle c5d potrà calare ma quanto cioè è proprio il set che è particolare in sé quindi dubito la ultra secondo me quella dropperà perché una ultra non può costare 48 euro non non a livello di prima perché prima costava tipo 10 però secondo me la carta nm da 35 40 mettiamola così cioè falla paga 80 euro un ex più più mi sembra un po' tanto adesso non so te sì sì è abbastanza bene passiamo all'ultima carta che non è una carta che sarà all'interno dei team ma una carta che secondo me potrebbe avere un hype importante ovvero paita sta droppando di prezzo quindi non è molto vera la mia affermazione però considerate questo se ristampano trident e lo ristampano perché l'hanno annunciato e il nuovo supporto tenpai sarà comune come tutto il resto del mazzo cosa che ovviamente non credo però la possibilità c'è questa carta sale perché ovviamente è l'unica la carta dove effettivamente si può lucrare del mazzo e quindi spikerà a 20 barra 30 euro però ci sono tanti 6 in mezzo che ovviamente non si realizzeranno a parte la riprinte di di trident perché ragazzi il supporto nuovo non può essere comune se no konami si brucia il primo prodotto delle espansioni di quest'anno cioè info deve essere credo all'altezza di agov mettiamola così o all'altezza di agov o almeno un buon set all'altezza di un pote un bode agov ha alzato gli standard troppo troppo in alto però come un pote un bode me lo immagino esatto perché comunque ci sono i fansmith ci sono non me ne ricordo neanche più tutte le robe che ci sono dentro le carte della lore di abestar ci sono i burattini che fanno ftk potrebbe essere anche un buon set e poi il set bomba lo sparano a novembre no ancora non sappiamo però ovviamente sì ci possiamo aspettare qualsiasi cosa comunque rimane un ottimo set molto interessante a sbustare soprattutto perché c'è il finto max cia eh vediamo anche quello potrebbe essere carino da recuperare e va bene ragazzi il video finisce qua spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento ovviamente cosa ne pensate ma soprattutto se acquisterete o meno i team perché la roba interessante è tanta eh e farveli perché io non me li farò sfuggire io li comprerò non mi sembra la mossa giusta mi sono già fatto sfuggire la rare t2 ma questa diciamo che ho già messo i soldi da parte per una cassa poi vediamo se riesco anche con la seconda sicuramente l'apriremo qua sul canale o il live su twitch vediamo dipende come mi gira qualcosina forse sul canale si aprirà però detto questo ragazzi state mesi e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti